L'offerta formativa dell'Istituto Superiore Don Michele Arena comprende i seguenti indirizzi Manutenzione e assistenza tecnica, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, servizi commerciali e odonto tecnico, insieme per il futuro Siamo con il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera. Sindaco, un anno che è iniziato con tante novità per i cittadini, per i commercianti, anche per i giovani di Contessa Entellina Un progetto delle misure di sostegno per la creazione di nuove aziende, ma anche di sostegno delle aziende già esistenti. Di cosa si tratta? Buonasera Salvo, buonasera a tutti i lettori e ascoltatori di Saluto Veniamo fuori da un anno difficile, molto difficile, per la quale non ci siamo persi d'animo, nonostante la lotta alla virus che non ha lasciato scampo ai territori e anche delle aree interne, noi abbiamo continuato a programmare, a programmare tantissimo Oggi, all'inizio dell'anno nuovo, chiaramente, mettiamo in campo tutto quello che è stato il lavoro strategico che insieme a chi accompagna questa avventura amministrativa abbiamo portato avanti Si tratta nello specifico di una misura a sostegno del lavoro, chiamiamolo così, una misura a sostegno del lavoro e dell'imprenditoria locale L'avventura globale che prevede all'interno comunque l'emanazione di due bandi Uno finanziato totalmente con i fondi del bilancio comunale, tra l'altro era un nostro obiettivo programmatico già da tempo Prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto di 10.000 euro per chi apre una nuova impresa artigianale o commerciale nel territorio del comune di Contessa e Dellina ed insieme a questo lo sgradio dei tributi locali per 5 anni Un sostegno, crediamo, molto importante per l'avvio di nuove attività artigianali e commerciali ma anche per far circolare l'economia locale per cercare di far diventare questa economia sostenibile E' chiaro che il bando premierà chi riuscirà a produrre progetti innovativi una impresa 3.0 per usare un linguaggio del tempo che oggi con la digitalizzazione ormai totale si può raggiungere qualsiasi parte del mondo il mercato è globale per cui crediamo che anche la Contessa e Dellina si può fare impresa cercando di farsi conoscere in tutto il resto del gruppo L'altra misura invece che abbiamo attuato è finanziata dal fondo per le strategie delle aree interne in un fondo nazionale che il ministero per il sud ha garantito a tutte le piccoli comuni delle regioni del sud Italia un fondo che noi potevamo utilizzare per due scopi o un contributo a fondo perduto e quindi un'erogazione per le spese di gestione a tutte le imprese presenti nel territorio sarebbe stato comunque così come dare un contentino a tutti oppure la misura B del fondo prevedeva la possibilità di poter finanziare progetti di innovazione noi abbiamo scelto questo perché vogliamo che le imprese che operano nel nostro territorio diventino competitive la competitività non è qualcosa che si può raggiungere aspettando misure diverse ma è qualcosa che noi possiamo incentivare, qualcosa che le imprese possono raggiungere soltanto se riescono ad investire in determinati settori l'innovazione è uno di questo per cui crediamo che le nostre imprese possono diventare competitive e possono superare quel momento di crisi che il covid, l'emergenza coronavirus ci ha comunque costretto a vivere Sindaco, un messaggio importante che viene da un piccolo comune delle terresicane che però guarda al mondo, che negli ultimi anni ha creato diversi eventi di qualità e che adesso si pone anche appunto come veicolo commerciale e di promozione per l'artigianato locale, per il commercio locale e in un momento in cui i comuni non vivono di grandissime risorse il comune di Contessa invece riesce a trovarle e riesce a metterle a disposizione dei propri cittadini come si fa? come si fa? Si fa cercando di gestire al meglio le risorse che si hanno è vero che il periodo per i comuni non è dei migliori che l'anno appena trascosto comunque non ha dato certezze fino al 31 dicembre ultimo sono arrivati stanziamenti da parte della regione che non abbiamo potuto nemmeno utilizzare per cui non è stato facile programmare, non è stato per tutti i comuni ma è chiaro che se una strategia c'è, quella è accompagnata da una visione ed la costruzione dei documenti contabili chiaramente deve camminare di pari passo con quelle che sono le idee e le iniziative di chi amministra se noi pensiamo che la pubblica amministrazione debba ridursi alla mera erogazione di servizi ordinari allora credo che forse il ruolo della politica diventi molto effimero noi invece crediamo che il ruolo della politica e della pubblica amministrazione sia quello di poter garantire una spinta propulsiva diversa e di poter dare l'opportunità a chi vive, ai territori piccoli o grandi che siano perché poi tutto è proporzionato nella pubblica amministrazione e anche le risorse ma è essenziale poter garantire ai cittadini la possibilità di vivere i territori per cui una buona amministrazione si contraddistingue nel buon utilizzo delle risorse